buongiorno bella gente benvenuti nel mio canale scusate la voce ma sono intasatissima e raffrontitissima questo tappeto è nuovo molto interessante davvero molto interessante peccato che per me è troppo scuro costa 8 euro di misure sono veramente interessati perché avevo preso una cosa simile però era un metro 80 per un metro 23 o 33 era bello davvero invece questo qua un'altra un'altra variante costa 2 euro in più è veramente molto interessante c'è questo tappeto all'esterno della porta invece questi qua sono tappeti nuovi e tutti gli articoli che vi faccio vedere sono tutti articoli nuovi non mi piace tanto invece mi piace più questo qua questo macolato così e a 39 euro le misure sono un metro 33 per un metro 95 è veramente interessante può essere un'idea per la mia cabina armadio invece questo qua ha lo stesso prezzo però troppo scuro che ha il pavimento scuro non serve tanto invece voglio farvi vedere questi tappetini che avevo comprato poco tempo fa costavano 3 euro adesso costano 4 euro e invece la novità c'è questo specchio troppo elevato il prezzo però va bene e invece c'è queste qua in offerta all'ikea 8 euro sono due specchi e adesso tutti i quadri che ci sono all'ikea che ci sono dei quadri veramente molto carini molto molto carini se volete vederne di più di quadri basta chiedermelo perché l'ikea ce l'ho da 8 minuti da casa mia e quindi posso andare tranquillamente basta chiedere gente se avete bisogno di vedere qualche articolo in particolare non c'è assolutamente nessun problema ed ho una vita che non vengo all'ikea prima venivo abbastanza spesso questi qua sono gli articoli nuovi perché bellini specchietti così e siamo quasi per l'uscita adesso vi faccio vedere cosa ho comprato io piante vi faccio vedere vi ricordate dei doppi scarpieri che costavano 19 euro che hanno aumentato a 20 euro adesso 22 euro invece io ho preso questa meraviglia di pianta infatti l'ho messa nella doccia per banirla per bene perché era veramente secca costava 29,90 l'ho pagata 14,50 per la gente se vi piace questo video se vi piace il mio canale mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e soprattutto aspettatemi aspettatemi domenica alle 12 perché vi faccio vedere un video innovativo su come trattare i capelli non solo i ricci ciao belli alla prossima ciao